Presentato dal Comune di Teramo il progetto di riqualificazione del mercato coperto di Piazza Verdi, uno studio di fattibilità che prevede un investimento di circa 5 milioni di euro e che sarà coperto per la metà da risorse comunali, mentre il resto dei fondi sarà reperito tra CIS e altri canali di investimento. L'idea è di farne uno spazio moderno, funzionale e innovativo, ma fedele alla sua storia e vocazione, e cioè la promozione dei prodotti locali. Per la prima volta, perché si è sempre parlato del mercato coperto ma non c'è mai stato un progetto, lo abbiamo approvato, lo abbiamo definito, ovviamente si tratta di un preliminare che poi potrà essere rivisto in corso d'opera, senza però snaturare quello che è l'obiettivo fondamentale. L'obiettivo è arrivare allo sviluppo e alla rivitalizzazione del mercato coperto, punto strategico della nostra città e attraverso il mercato coperto della città stessa. È un intervento che si inserisce all'interno di un contesto importante della nostra città, non dimentichiamo che siamo nell'area della ricostruzione del Braga, della rivitalizzazione e riqualificazione del teatro romano, quindi urbanisticamente si tratterà dell'area di sviluppo fondamentale del nostro centro storico, un mercato coperto che avrà ovviamente la finalità di costruire, definire un teatro del gusto, che metta al centro i prodotti a chilometro zero, la ristorazione e che segna anche un incrocio tra l'enogastronomia e la cultura generale del nostro territorio. Ed è, lo dicevo anche nel corso della conferenza stampa, non un mercato cittadino, ma un mercato che sia un hub di riferimento dove possano trovare delle connessioni anche altre realtà della nostra provincia, un mercato di area vasta che può e deve assolutamente costituire la base per lo sviluppo commerciale, per lo sviluppo culturale e perché no, per valorizzare anche Teramo città universitaria, perché deve essere un punto, come in tante altre città d'Italia e d'Europa, veramente di rilancio, di vita, di rivitalizzazione complessiva della nostra città.